Fino all'inizio del 2017 quindi ero un convinto sovranista, seguace il grande stimatore dell'avvocato Marco Mori. Mi ero anche avvicinato e iscritto al gruppo della MMT, la Modern Money Theory. Questo è il sito della MMT Italia, che è stata per esempio fatta conoscere abbastanza in televisione dal giornalista Paolo Barnard, spesso ospite alla trasmissione La Gabbia di Paragone. La MMT è contro l'austerità, prevede la sovranità monetaria dello Stato italiano allo scopo di pianificare l'economia e ridurre per esempio al minimo possibile la disoccupazione, quindi aumentare l'occupazione.